Ma quanti dei bombati fino ad adesso? Valerio Mazzei Valerio Mazzei Bombi? Ah, allora Valerio Se stai vedendo questo video Ascoltami bene Mia sorella ha detto bombo Molto raro che dica bombo Ah sì, bombo a grandi linee L'abbiamo fatto un anno fa Lo rifacciamo con le persone diverse Bambi e passi con le persone nuove Con i nuovi TikTok Esatto, esatto Comunque ci stanno un sacco di video Su questo secondo canale Cioè sul canale Zerbian Quindi questo qui Quindi preparatevi Perché nei prossimi giorni Un sacco di video figli usciranno Comunque inizio io Vai Molto facile D'impatto Simone Berlini Simone Berlini Ma se nei video In un video non so quanto tempo fa Hai detto che è la persona più bella Di TikTok Italia Eh, cosa c'entra? Non è che devo bombare allora Cioè Eh, chi bombi? Allora uno che non ti piace? Eh, che ne so Cioè Bombi e passi Simone Berlini La bombo Ho capito Però c'è anche perché mi sta simpatico Ah, ora vediamo Non conta l'età, eh Cioè non teniamo conto dell'età Aurora Mariani Aurora Mariani Passo Perché? Passo perché è troppo piccolo Ancora Non contiamo l'età Non c'entra niente No, perché tu la usi come scusa? Mi chiedete che è la carina Bombi e passi? È troppo piccola Passo No, abbiamo neanche Basta Allora bombo Senza età bombo Ok Però con l'età basso Non ti giustificare Va bene Va bene, allora bombo Luca Campolunghi Passo perché è fidanzato Eh, allora No, no Stop No Allora Tu devi dire Se fosse singolo E se avessi la tua età Passi? Sì È simpatico L'ho conosciuto l'altro giorno Però passo Ok, ok, ok Va bene Da poi non ho mai capito È Luca Campolunghi O Luca Porta Corta Dio, era bellissima questa Vai Ok, ce l'ho Vai Miriam Sava Passo Perché? Non A parte che è una mia amica Ma lascia stare quello Non è Non ispira Ma mi chiedete che non credi La mia città Devo scrivermela Sì, è una mia amica Nel senso che non c'è ragione Allora ti dico passo Passo Non è Non mi ispira Cioè È una bella Va bene, va bene Va bene Sapete cosa faccio Per capire chi mettere Vado su Tik Tok Scorro E vedo chi mi piace Ah ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Sespo E allora perché ho visto Io ho visto video su YouTube Passo Passi Si chiama esposito come me Passo Sto dicendo Il nostro stesso volume Però passo Va bene Ci sta, ci sta Questa Elisa Maino Bombo Elisa Maino Bombo Ma bombo una quindicina di volte Anche Elisa Maino Elisa Maino Raga Elisa Maino mi piace da quando ero piccolo Bombo Vai, tocca a me Veramente bella Vabbè, mettiamo il compagno di Di avventure Di cose Di sespo Valerio Mazzei Valerio Mazzei Se stai vedendo questo video Ascoltami bene Mia sorella ha detto bombo Molto raro che dica bombo Ah si, bombo a grandi linee Si, si, a grandi linee Adesso vedi che si deve giustificare Per cui ho detto questa cosa Scrivigli immediatamente su Instagram Ok, ce l'ho io Vai Gaia Klerici Bombo Bombi? Bombo Carina lei Gaia Klerici bombo Vabbè raga, ma io sono molto Cioè, bombo, io bombo Gaia Klerici bombo Scusa, le bombi tutte Luca Ma non è, si Ma che a parte che siamo due Ho detto bombo E due ho detto passo Quindi non è vero Matteo Robert Passo Perché passi? Eh, mi sembra un bel ragazzo Perché passi? Passo perché non è il mio tipo Non è il mio tipo Cioè, è simpatico Però non è il mio tipo Vabbè, vabbè Vado io Raga ho paura Mi sta mettendo a Graia Garavaglia Dovete assolutamente schiacciare il pulsante rosso qua sotto Perché al raggiungimento degli 800.000 iscritti Per colpa vostra Sarò costretto a lanciarmi da un aereo Iscrivetevi Ti dico passo perché non è il mio tipo Cioè, non è simpatico È simpatico No, è molto simpatico Però non so Non mi fa impazzire È carina, ma non mi fai impazzire Jody Passo Perché passi? Guardi che è troppo grande Sbaglio due Ok Vabbè Stop, stop, stop Ah, vediamo Non conta l'età, eh Abbiamo detto che l'età non conta Eh, e quindi è troppo grande Non vogliamo dare risposta Va bene, allora ti dico Non per l'età Però No, passo No, allora Togliendo l'età Passo Cioè, è simpatico, eh Non l'ho mai conosciuto Alice Muzza Alice Muzza Sai che passo Ma smetti Stop Ma sei un falso Ascoltemi bene Ti dico una cosa Piace a tutti A capo piaceva di brutto Anche l'aveva detto anche in un video Cioè, è bella No, è bella Alice è molto fisica È molto bella Però, cioè Non è che dico Ogni mostra con la difficoltà assurda Di scegliere la persona Davide Moccia Passi? Sì Ah, poi sono io Ma quanti dei bombatti Fino ad adesso? Uno Due Due Simone Berlini E Valeria Marsella Ok Basta, due su tre mila Vai Alice Bortoli Eh Raga Lo stavo per dire Boh Alice Bortoli Lo stavo dicendo adesso Ma ho detto Al Dai No, io volevo metterti Maria Sonefoglio Perché sapevo che Vabbè, comunque anche lei bombo Poi passa che sono quello che le bomba Ma Alice Bortoli io non la sapevo Non sapevo Passa che sono quello che le bomba tutte Ma, cioè, è palese, dai Pietro Storti Passo Perché ridi? Allora È troppo grande Però non Ancora Oh, ogni volta che ne passa uno è troppo grande È appena detto che non si Quando c'entra Non contiamo l'età Non contando l'età passo Cioè, non è il mio tipo Ok Non sono come te io Cosa vuol dire? Non sono come te Il gabbrone Che avevi detto in uno scorso video bombo Il gabbrone Vabbè, ma tra perché sono tutti No, il gabbrone però ti dico Allora, ho visto qualche live Eh Sarà che... Ah, stavo dicendo una cosa sbagliata Cosa stavi dicendo? Ho sbagliato Stavo dicendo Ho visto qualche live Mi sono stato simpatico No, è vero Poi, pombo, pombo Il gabbrone è buco Il gabbrone è buco Sì, cioè, questo è simpatico Oh, cab Ma qui stiamo spingendo, eh Incredibile È il morchiatore seriale Alessia Lanza Allora Alessia Lanza Bombo, chiaro Ma Devo dire un parere mio Di Alessia Lanza Sì, dai Allora, tutti dicono che è bella Tutti dicono Stop Tutti la fanno passare come una dea Sicuramente No, è bella È oggi Tocca a me Ti metto Diego Nasca Passo Perché? Perché Sembra un po' Gesù Vero, eh No, te lo giuro Ma a me ricordo un po' di Gesù Cioè, hai detto tu, eh Perché ridi? Te lo giuro Ma a me ricordo di brutto Ma, come sai che Allora, ho presente poco chi sia Perché la chissà L'ho visto una volta Cioè, non ha proprio presente L'immagine di lui Però passo Sembra simpare Vabbè, però passo Nel mio tipo Passi Ok Ah, Giulia Paglianiti Giulia Paglianiti Bombo Tutte Eh, basta No Allora, quando dico passo Perché dico passo E quando dico bombo Perché dico bombo Chi ti posso mettere Chi ti posso mettere Patrizio Morellato Passo Perché? Fidanzato Ancora Abbiamo detto che non conta Se hai fidanzato oppure no Oh, sono stato un'ora No, comunque passo Perché non lo conosco Dai Aspetto fisico Non ti piace? Ragazzi, sono stato un'ora A pensarne uno Che non me ne viene in mente uno No, io allora Facciamo una premessa Io in questo video Non ho bombato Passato dallo stato fisico Io ho bombato Passato da quanto conoscevo Nail Il chili Passo È mio amico Frenzo è potentissima Rebecca parziale Passo Ma non perché per l'età Eh Passo Lisa Lucchetta Bombo Se non fosse per l'età La bomberebbe anche per l'età Non è me Allora, 2008 Se io penso che è all'età di mia sorella Mi viene da piangere Ok, ultimo a testa Uno io, uno te abbiamo finito Allora Chi potrei dirti? 3.000 ce ne so Dimmi un elenco di persone Chi ne so Capcazzo La persona con cui hai fatto Uno dei tuoi ultimi TikTok Mattia Basso Mattia Basso Sai che Passo Frenzo un potentissimo No, adesso No, sto scherzando No, vabbè, è un bel ragazzo Lui è oggettivamente bello Sì Però Ok, passi Va bene Vai, l'ultima tua Faccio l'ultima mia Iris di Domenico Bombo 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 Perfetto Ora Per tutti i ragazzi Qui mia sorella ha detto Bombo Sapete che comunque Gli dovete scrivere su Instagram Per caso Smetti la madonna Smetti Vabbè, niente ragazzi Non posso dire più niente Ci vediamo al prossimo video Bella Sai cos'è bella? Lasciarla Stop Oh la Nutella Ciao Grazie a tutti.